Era alla guida di un'imbarcazione che aveva portato dalla Tunisia all'Italia alcuni migranti, il presunto scafista sottoposto a fermo di polizia giudiziaria nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Trapani. Il giovane, 29enne di nazionalità tunisina, lo scorso 13 agosto aveva guidato un gommone con a bordo 21 connazionali fino alle coste di Pantelleria, dove l'imbarcazione era stata soccorsa dalle autorità italiane. Gli operatori della Polizia di Stato, attraverso un estenuante lavoro di escursione dei migranti ospitati sull'imbarcazione e l'esame dei telefoni cellulari in uso ai vari dichiaranti, hanno raccolto gravi elementi indiziari a carico del conduttore del gommone. Il presunto scafista è stato così sottoposto a fermo con l'accusa di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina ed è finito in carcere. La misura è stata poi convalidata dal GIP di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica.